Gentili telespettatori, buona giornata. Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, fa una riflessione che è assolutamente corretta. Il Green Pass è un obbligo mascherato. È un giochetto che sta facendo il governo. Perché è un giochetto? È evidente. Secondo quello che dice la Costituzione italiana, il Green Pass non è anticostituzionale, mentre il vaccino, il Green Pass obbligatorio, non è anticostituzionale, mentre il vaccino, potrebbe obbligatorio, porterebbe dei problemi al governo. Perché il Green Pass obbligatorio non è anticostituzionale? L'abbiamo già visto, perché la Costituzione dice che non puoi limitare la circolazione degli italiani, non puoi limitare la libertà di circolazione degli italiani, a meno che non ci sia una legge che dice il contrario. Praticamente è questo. Quindi se ci sono dei problemi sanitari o di sicurezza nazionale, si può limitare la circolazione delle persone. per motivi superiori, per la sicurezza del Paese. Con una legge apposita, un decreto, come quello che stanno facendo, si può limitare la libertà di movimento degli italiani. Voi direte, non è possibile, ma è così. Attenzione, vi devo raccontare le storielle, vi devo raccontare che è anticostituzionale, perché va di moda a dire che non è anticostituzionale. leggetevi la Costituzione, dice proprio questo. Mentre il vaccino, il vaccino c'è scritto, come per il Green Pass, che, visto che il vaccino potrebbe diventare un trattamento sanitario obbligatorio, il trattamento sanitario obbligatorio, dice la Costituzione, non è ammesso a meno che non si faccia una legge, come il Green Pass. Però, attenzione, sempre nella Costituzione c'è scritto che se tu obblighi a un trattamento sanitario, questo deve essere assolutamente senza controindicazioni. Quindi, il governo, come dice la Meloni, e il Green Pass è un obbligo mascherato, preferisce dire che per fare tutto devi avere il Green Pass, piuttosto che per indurti a vaccinarti, piuttosto che obbligarti, perché obbligandoti, qualunque problema c'è, legalmente il governo ci va di mezzo. Qualunque problema, qualunque sintomo, qualunque controindicazione che uno ha, denuncia il governo. Avete capito il giochino? Il giochino è semplicissimo. Eh, è semplicissimo. Giorgio Meloni dice Non sono favorevole all'obbligo vaccinale, mi sono schierata contro anche quello per i medici. Sono invece favorevole a una campagna seria per i cittadini. I politici si assumino Le loro responsabilità non mettano un Green Pass che alla fine è un obbligo mascherato, lo dice Giorgio Meloni in diretta Facebook da una masseria della Manduria. Io sono per il vaccino, dice Giorgio Meloni. Non sono mai stata contro. Non sono contro la scienza, ma penso che la scienza in questo momento abbia idee poco chiare. Bene. Il Green Pass, che ore sono adesso? Sono le quattro. Alle cinque si riunisce il Consiglio dei Ministri e dovrà votare questo Green Pass obbligatorio. Alla fine verrà messo da utilizzare praticamente per tutto tranne i servizi essenziali, cioè tranne supermercato, farmacia. Ecco, un po' tutte quelle attività che durante le chiusure dell'anno scorso, vi ricordate? Non si può uscire di casa, ma si può andare al supermercato, in farmacia, dal giornalaio, dall'elettricista, dal meccanico, nel negozio di elettrodomestici, e si può andare in posta, in banca, in pratica si poteva andare dappertutto, tranne che andare a comprarsi una maglietta, un paio di scarpe. Ecco, si poteva andare in tutti i negozi tranne quelli di svago, di moda, eccetera, eccetera, perché tutti venivano definiti attività essenziali, no? Per mangiare, se uno deve andare in posta, ci deve andare, in banca, ci deve andare, se deve andare addirittura anche gli architetti, gli ingegneri, voi potevate andare dagli architetti e gli ingegneri, insomma, boh, perché se uno deve costruire, vabbè, non lo so, quella era una cosa un po' curiosa, e così sarà anche il Green Pass obbligatorio, sarà obbligatorio per entrare in tutti quei posti che non sono il supermercato, la tabaccheria, la farmacia, la parafarmacia, il negozio di frutta, eccetera, eccetera, mentre sarà obbligatorio per ristoranti, bar, cinema, teatri, discoteche, piscine, palestre, tutto quello che volete, alberghi, aerei, navi, tram, autobus, anche se il trasporto urbano o non urbano serve per andare al lavoro, e se tu devi andare al lavoro che non hai la macchina, non ti possono impedire di prendere l'autobus, perché se tu non vai al lavoro, perdi il lavoro, il lavoro è uno dei diritti fondamentali, e pertanto non è possibile impedirti il mezzo di trasporto che ti porta al lavoro, ma il governo sta pensando di impedire invece quello che ti porta a fare le vacanze. È un po' difficile, ad esempio, distinguere, perché uno prende un Intercity Milano-Roma e dice dove vai? Vai in vacanza o vai al lavoro? Dimmelo, dimmi la verità, dimmi la verità. Ecco, come si fa? Se uno prende il traghetto da Civitavecchia per andare in vacanza in Sardegna, può esserci anche quello che prende il traghetto per andare a lavorare, perché deve andare lì a lavorare. Cioè, no, dimmi la verità, tu vai a lavorare o vai in spiaggia? Dimmelo giusto, dimmela giusta la cosa. Ecco, e poi, quello che dicono tanti di voi, ma chi va a controllare? Ma chi si mette davanti ai tornelli della metropolitana a controllare il Green Pass? Chi si mette, non so, davanti ai bar, a tutti i bar, a tutti i cinema, a tutti i ristoranti, a controllare il Green Pass? Devono mettere un cameriere o un impiegato del bar, dice tu stai davanti la porta e tutti quelli che entrano e escono, devi controllare, verificare che non sia falso, perché poi immaginatevi, la gente che si farà la fotografia di un altro Green Pass e poi sul cellulare dice, eccolo qua, invece è la fotografia di quello dell'amico, no? Che l'ha messo sul computer e ha fatto la fotografia col cellulare. me lo immagino io in tante zone d'Italia i Green Pass falsi, vabbè, quello è su tutto comunque, biglietti di calcio, eccetera, eccetera, però mi sembra, immaginatevi la metropolitana all'ora di punta o gli autobus, quando arriva l'autobus che c'è tutta la folla che va sull'autobus, fermi tutti, il Green Pass, in Italia non siamo capaci neanche a controllare i biglietti se uno ha pagato l'autobus o la metropolitana o il treno e chi controlla questi Green Pass? Una domanda, eh? Cappuccio, faccia prima vedere il Green Pass, no? Vabbè, vedremo. Grazie a tutti e arrivederci.